Ci troviamo a Pieve di Soligo. Questa sera affronteremo un tema abbastanza delicato, perché parleremo di quella che è considerata una delle nuove frontiere per la lotta contro i tumori. A parlarne, nella fattispecie, sarà il professor Michele Maio, direttore del reparto oncologico di Siena e pioniere di questa nuova cura, l'immunoterapia. La serata ha inaugurato la rassegna Pieve Incontra, un ciclo di appuntamenti condotti dalla giornalista Adriana Rasera, che, a cadenza mensile, animerà dal punto di vista culturale la città di Pieve di Soligo. L'immunoterapia ormai è considerata la quarta strategia per la lotta contro i tumori. In cosa consiste? L'immunoterapia consiste sostanzialmente nell'utilizzare dei farmaci, che sono dei veri e propri farmaci, non sono dei rimedi omeopatici o dei farmaci che noi possiamo comprare al supermercato, che vengono normalmente utilizzati o commercializzati come ricostituenti del sistema immunitario. Sono dei veri e propri farmaci che noi utilizziamo per potenziare le difese immunitarie dei pazienti affetti da tumore e potenziando le difese immunitarie con questi farmaci stiamo ottenendo risultati estremamente importanti, quindi nel controllo di alcuni tipi di cancro. Questo argomento è approfondito nel suo libro Il Corpo Anticancro, che racconta un po' anche la storia della lotta che si sta facendo contro i tumori. Cosa è stato fatto finora? È stato fatto tantissimo, anche nell'ambito dell'immunoterapia, che come si diceva è certamente da considerare come la quarta strategia che noi oncologi abbiamo a disposizione, ne ha aggiunta la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia. Sono stati fatti dei passi da gigante. Che raccontiamo in questo libro, che abbiamo scritto con Agnese Codignola, una giornalista scientifica, che è un libro di tipo divulgativo, non è un trattato, in cui raccontiamo attraverso le storie dei pazienti, dei pazienti che ce l'hanno fatta e anche di quelli che non ce l'hanno fatta, tutto ciò che è successo negli ultimi vent'anni nell'ambito dell'immunoterapia del cancro e soprattutto quali sono le potenzialità di questa nuova strategia terapeutica e ciò che sperabilmente otterremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. L'incontro, oltre che carattere informativo, ha avuto anche uno scopo benefico. Il ricavato della vendita dei libri del dottor Maio sarà devoluto alla fondazione Nibit, che si occupa della ricerca e dell'attività scientifica nell'ambito della biomedicina oncologica. Quali sono allora gli obiettivi futuri della ricerca in questo campo? Gli obiettivi futuri sono certamente quelli di aumentare la sopravvivenza dei pazienti. L'obiettivo è questo. L'immunoterapia quando funziona, proprio perché utilizza le nostre difese immunitarie, quindi dei meccanismi, se vogliamo, fisiologici, quando funziona tende a funzionare per un periodo di tempo molto lungo. Quindi a determinare un aumento statisticamente significativo della sopravvivenza a lungo e lunghissimo termine dei pazienti. Quando dico lunghissimo termine intendo a 5 anni e a 10 anni. Questi sono numeri che ormai abbiamo acquisito per alcuni tipi di tumori. Recenti studi hanno dimostrato che i malattie oncologici stanno diminuendo. L'opinione pubblica però sembra pensarla diversamente. Lei cosa ne pensa? Alcuni tipi di tumore che gli sono in reale diminuzione, alcuni tipi di tumore sono in aumento. Quello che sta succedendo è che si sta riducendo il tasso di mortalità per tumori. Quindi questo vuol dire che noi stiamo avendo sempre di più quotidianamente a disposizione dei nuovi farmaci, delle nuove strategie, delle nuove capacità mediche che ci permettono di ridurre il numero di pazienti che purtroppo muore attraverso il tumore.